Sono Mauro Olavazza della Leading Technologies, quest'anno l'Audioforum abbiamo presentato il nuovo software audio architect in versione 1.5, la nuova piattaforma di Arman che permette la gestione, il controllo e il monitoraggio di tutti i prodotti della famiglia Arman Professional, non solo i processori audio ma anche radiomicrofoni, mixer digitali, altoparlanti, amplificatori, tutto quello che è il pacchetto audio e controlli offerto dal gruppo Arman. Quest'anno all'Audioforum abbiamo presentato, abbiamo partecipato con un relatore che ha parlato di trattamento acustico in ambienti difficili, presentando una case history di una chiesa acusticamente molto difficile, la soluzione è stata trovata con un intervento acustico e grazie all'utilizzo di altoparlanti a direttività controllata della famiglia JBL.